Grazie Presidente. Come ha fatto rilevare il consigliere Figliomeni, la delibera del dopo di noi è arrivata dopo l'inizio della stesura del piano sociale e dopo anche il primo passaggio in giunta. Però questo non è il motivo per cui noi ci asserremo su questo ordine del giorno, è che se avessero letto bene questo piano a pagina 62 nella sezione promozione del benessere e della salute alla voce di stabilità c'è il punto dopo di noi. Cioè nonostante non si fosse ancora dato seguito alla delibera, comunque in ogni caso nel piano sociale è stata inserita la voce dopo di noi anche perché i municipi stavano già iniziando a raccogliere le richieste per questi progetti. Quindi io non posso, cioè è incongruente approvare un atto che ci chiede di inserire un qualcosa che già è insito nel piano sociale. E logicamente ci dispiace di fare questo, anche perché come sappiamo che questo è un tema sentito da tutti, sappiamo che poi chi viene alle nostre commissioni sa che è un tema veramente trasversale e che io oltretutto ho molto a cuore e ciò nonostante noi su questo ordine del giorno ci dovremmo assenere. Grazie Presidente.